Ho trovato un corpo, è uno dei loro. Fuciliere, 200 metri est. Fuciliere, 200 metri est. Bersaglio, fuciliere eliminato. Fuciliere, 400 metri est. Elicottero d'assalto, 900 metri sud-est. Fuciliere, 400 metri est. Fuciliere, 400 metri est. Fuciliere, 400 metri est. Fuciliere, 400 metri est. Fuciliere 400 metri est 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 Ricarico! Contatto! Ficiliere, 100 metri, nord-est! Bersaglio! Fuciliere, eliminato! Fuciliere, 300 metri, est! Ricarico! Contatto! Fuciliere, 100 metri, sud-est! Sono nei guai! Mi hanno preso! Accidente! Spada 2, qui spada! Mi sto collegando con spada 3, passo! Posizione presa! Non sparo! Ricevuto, spada! Spada 2, chiudo! Bersaglio! Fuciliere, eliminato! Fuciliere, 100 metri, nori, sud-est! La storia, blocino! Mi faccio! Spada 3,ropino! Coppa 3, poeta 3, poeta 4, poeta 3, poeta 4, poeta 6, poeta 3, poeta 6, poeta 6, poeta 6, poeta 6, poeta 6, poeta 8, poeta 6, poeta 11, poeta 6, poeta 7, poeta 6, poeta 6, poeta 6, poeta 7, poeta 12, poeta 9, poeta! Contatto, fuciliere 200 metri sud-est. Persaglio, fuciliere, eliminato. Seguimi. Affermativo. Fuciliere, 200 metri est. Sono ferito. Fuciliere, 200 metri est. Fuciliere, 200 metri est.